Musica Bentù, te lo metti qua? Mi sono un ugru di qui si è in un ugru. Mi sono in un ugru, mi sono in un giro, mi deve essere in un ugru. Mi sono in un ugru di educa e mi deve essere in un ugru. Ma mi sono in un ugru di un ugru. Qua è in un ugru di fare e cosa deve andare a fare. Oh, èra murets. Ma non vedo sulle qualcosa. Si può sentire un pollo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.